Professor Gontero, quali sono i principali problemi da sottolineare, problemi urologici ovviamente con l'avanzare dell'età nell'uomo? L'urologia si occupa di due importanti apparati, sono l'apparato urinario e l'apparato riproduttivo genitale. Entrambi questi apparati sono causa di problemi che si acquiscono con l'aumentare dell'età. Pensiamo che disturbi della minzione possono interessare quasi il 100% dei pazienti anche se in forma lieve dopo i 70 anni. La causa principale sono i problemi legati all'ingrossamento della prostata, poi esiste la grossa problematica del tumore della prostata che però va ricordato molto spesso non dà sintomi. Quindi è un riscontro che viene fatto se uno fa le visite. E poi dall'altro versante abbiamo invece l'apparato riproduttivo e chiaramente ne fa la parte da padrone soprattutto la disfunzione dell'erezione, la cosiddetta impotenza. È un problema ad elevatissima prevalenza che però, attenzione, non deve essere considerato sempre e solo un effetto dell'età perché può nascondere delle patologie. E quindi è importante che il paziente, anche se ha una certa età, ne parli con il suo medico, sapendo che il medico assolutamente non farà nessuna ironia ma sarà pronto ad affrontare questo problema e a vedere se effettivamente può essere la spia di un qualcosa di più importante. Grazie. Grazie.